Signori e signore finalmente ci siamo, torniamo alla carica per la stagione di FC 25 in uscita tra pochissimo e con oggi inauguriamo una serie di video che ci avvicinano allo start del gioco di casa EA Sports e oggi andiamo a vedere al meglio come poter sfruttare la web app nelle prime due giornate di gioco che si separano dall'uscita della Ultimate Edition. Partiamo dalle basi, innanzitutto che cos'è la web app? Magari qualcuno di voi si affaccia per la prima volta ad FC 25 e non conosce quello che è uno straordinario tool per quella che è la gestione del nostro club perché è fondamentale per poterne gestire le risorse al suo interno. Infatti tramite la web app possiamo andare a gestire il mercato tramite la sezione dei trasferimenti e questo ovviamente se vi interesserà magari addentrarvi nel mondo della compravendita è fondamentale, è possibile andare a completare le sfide creazione rosa e questo poi ci ritorneremo in una seconda fase, è possibile andare anche a comprare pacchetti, andare a fare dall'anno scorso anche le tattiche e le formazioni anche se in vista di FC 25 è una cosa che vi sconsiglio viste le nuove dinamiche di cui vi ho parlato relative a tattiche, istruzioni, ruoli eccetera che ci saranno sul nuovo titolo. Insomma uno strumento che veramente ci permette di poter sfruttare ultimate team a tutto tondo, addirittura è possibile anche riscattare i premi del giovedì, quelli delle rivals, magari aprire i premi della weekend league e che più ne ha più ne metta. Il giorno dopo l'uscita della web app è di solito poi susseguente l'uscita della companion app che non è altro che la web app ma versione mobile quindi per tenere il vostro club sempre in tasca a portata di mano. Per quanto riguarda a proposito di data, la data potenziale di uscita della nostra web app è prevista tra il 17 e il 18 di settembre con un principale occhio di riguardo a quello che è il giorno 18 che è un mercoledì e non è un giorno a caso visto che di solito di mercoledì escono i team of the week ovvero gli if, i migliori giocatori della settimana e che in passato di solito è sempre coinciso con l'uscita della web app in maniera tale da dare un po' di movimento, un po' di brio a quelli che sono i giocatori presenti all'interno del pacchetto e anche perché no permettere una maggiore movimentazione di quelli che sono i crediti che ovviamente vogliamo andare ad immettere nel nostro club. E qui andiamo a sbloccare una tematica fondamentale relativo alla web app perché mi direte tutto bello, bellissimo ma quindi io nelle prime ore di web app che cosa devo fare per poter andare a massimizzare i crediti e muoverli sul mercato? Ebbene in realtà attorno a questo punto abbiamo un grandissimo what if, una grandissima incognita perché sappiamo bene che sulla nostra web app non riceveremo gli fc points del preorder qualora avessimo preso la versione ultimate che ci verranno riconosciuti solo al primo login su console, sappiamo bene che non è possibile trasferire gli fc points di fc24 sul 25 ma questo è possibile farlo solo da console e sappiamo benissimo che non è possibile acquistare fc points nonostante il tastino più accanto all'icona dei points ci possa ingannare ma se andate a cliccare questo vi riporterà poi ad un login da console quindi non è possibile neanche comprarli di nuovi. Ebbene dunque il what if vi dicevo ruota attorno alla presenza dei cosiddetti pack di benvenuto, il pacchetto fedeltà che fino a fifa 23 ricevevamo come premio per la nostra storicità ottenuta sui titoli precedenti. L'anno scorso ricorderete bene che in realtà non abbiamo ricevuto alcun tipo di pacchetto. Perché non abbiamo ricevuto alcun tipo di pacchetto però? Secondo me. Perché c'è stato un grande cambio generazionale da quelli che sono stati titoli di casa EA Sports realizzati per la FIFA ed un percorso che EA Sports adesso ha intrapreso ma senza più legarsi all'associazione calcistica più famosa al mondo. Quindi il mio pensiero è che non che speranza l'anno scorso si è venuta a ricreare nuovamente questa storicità avendo giocato a FC24 già un anno e quindi se qualcuno ha già giocato al titolo precedente sul 25 tramite web app dovremmo e meriteremmo di essere ricompensati con dei pacchetti fedeltà scambiabili i quali ovviamente vanno gestiti proprio al microscopio. Non vazzardata scarta niente mannaggia la miseria perché dovete provare a vendere tutto. Magliette, pallone, scarpine, tif, striscioni, tutto. Pure le coca cola e borghetti vi dovete mettere a vendere di quei di quei pacchetti e se proprio vedete che quel singolo oggetto lì dopo averlo ristato e ristato sul mercato non si è venduto lo andate a scartare per accrescere il vostro tesoretto di di crediti. Quindi ipotizzata quindi la presenza di questi pacchetti che ci permettono di ottenere un budget ovviamente vi sorgerà spontanea la domanda su come andare a gestire questo budget. Ebbene c'è una tab che guida un po' quelli che saranno i primi due giorni di web app che è quella delle sfide creazioni rosa che ovviamente sarà sto incredibile novero di opportunità ma bensì sarà rappresentata da quelle che sono le SBC basi che purtroppo dall'anno scorso non ci danno più dei pacchetti scambiabili ma non scambiabili. Questo rallenta un po' quello che è il riciclo delle carte, il riciclo del mercato però comunque sono importantissime e in stradano quelli che sono i primi movimenti di compravendita che si vanno a fare perché queste sfide ovviamente richiedono dei giocatori particolari che sono i giocatori che noi andremo ad attenzionare. Innanzitutto non vi dimenticate che ci sono le sfide basi all'interno delle quali abbiamo le sfide foundation, le sfide fondazioni che richiedono dei giocatori bronzo e argento quindi non mi andate a sottovalutare quelle cartellà che se andate a prendere con i giusti requisiti è possibile massimizzarne il loro valore anche su quella categoria lì. Ma quello che noi vogliamo andare realmente a fare è focalizzarci su quelle che sono carte oro rare e oro non rare di quelli che sono a mio modo di vedere i migliori campionati per cui Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligan accoppiati però a quelle che sono le migliori nove nazionalità che trovate all'interno della sezione top 9 perché di solito sono sempre i giocatori più richiesti all'interno delle sfide creazione rosa e sono dunque i giocatori che più ci permettono di poter ottenere dei crediti andandoli a muovere. Come fare per andare a cercare questi giocatori sul mercato? Benissimo andiamo nella nostra tab dei trasferimenti andiamo su cerca in mercato e diciamo che il nostro obiettivo è quello di prendere delle carte che sono più o meno sul prezzo di scarto in maniera tale da minimizzare eventuali perdite qualora questi giocatori non andiamo a venderli oppure andare a massimizzarne il profitto qualora noi questo giocatore riusciamo a venderlo. Mi raccomando all'inizio dobbiamo anche essere bravi ad accontentarci di piccoli profitti ma costanti andando a riempire costantemente la lista di 100 oggetti e facendola muovere in continuazione facendo uscire carta e facendole rientrare fino a quando non siamo soddisfatti del tesoretto che abbiamo accumulato. Vi dicevo dei filtri filtri che dunque possono essere su aste che magari hanno un massimo di 300 crediti possiamo mettere la qualità oro che vi dicevo prima ma anche comune senza andare a strafare sugli oro rari e focalizzarci ad esempio su quelli che sono gli strong link per cui che ne so Inghilterra ovviamente Premier League quindi la nazione più diffusa all'interno del campionato singolo come ad esempio può essere anche banalmente mi verrebbe da dire la Germania all'interno di quella che è la Bundesliga o anche soprattutto la Spagna all'interno di quello che è il campionato spagnolo per cui vi viene facile fare tutta questa serie di accoppiamenti che ci permettono di far uscire dei giocatori che noi poi andiamo a targettare per poterli portare all'interno del nostro club. Club che ha una pila trasferimenti vi dicevo di 100 oggetti 100 oggetti che devono essere completamente riempiti andando a ripartire in maniera coerente il nostro budget andando a preferire quelli che sono investimenti maggiori con una minima spesa rispetto ad investimenti più grandi ma con spese chiaramente maggiori perché si può anche andare a prendere la carta che magari poi all'uscita del gioco rimbalza in alto però lì c'è ovviamente più rischio e ci vuole anche un tesoretto che senza aver fatto questa fase preliminare non possiamo andare a operare perché non abbiamo portato crediti nel nostro club quindi questo è quello che farei io raga in ambito web app però adesso vi do un altro consiglio fondamentale per evitare di rimanere fuori da quella che è la porta del paradiso quando viene rilasciata la web app presumibilmente alle ore 19 di mercoledì sappiamo benissimo che ci sono 1500 problemi di login perché una miriade di persone vuole entrare sui server chiaramente quando viene rilasciato il gioco perché stanno a mille inteso come web app però magari ci avete la verifica due due fattori attivata con codice mail che vista la gigantesca richiesta che viene fatta di codici fa fatica a partire perché il server va in palla e allora il genio poi che cosa fate per evitare questo vi andate sul vostro account iei loggate se non avete attiva la verifica due fattori la attivate e cosa andate a fare andate a modificare il vostro metodo preferito nella sezione preferenze per ricevere il codice e io vi consiglio di impostare o sms o app autenticatore l'app autenticatore la più immediata perché tramite la stringa di codice che vi esce boom la inserite e entrate l'sms anche in teoria non dovrebbe darvi troppi problemi l'importante che evitate la mail perché quella diventa dipende direttamente dai server che già sono intasati di loro quindi fate questa cosa per evitare problemi ragazzoni per questo primo video è tutto io sono carico a manetta non vedo la di ricominciare questo anno con voi e a tal proposito vi ricordo di lasciare un like commentare facendomi sapere soprattutto se sapevate il trucchetto finale iscrivetevi al canale perché arriveranno tantissimi video sono poi sempre live ogni mattina sulla piattaforma viola a me non resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto nel vostro liberoschi e a presto ciao ciao